Ansa Voice Daily, l'approfondimento di oggi. Dibattito ancora ad alta tensione nell'aula della Camera sul caso dell'anarchico Alfredo Cospito e sulle accuse lanciate ieri dal deputato di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli contro il Partito Democratico. Il ministro della giustizia Carlo Nordio, chiamato oggi a riferire in Parlamento sul fatto che Donzelli nel suo intervento di ieri avesse citato intercettazioni riservate, cioè i colloqui tra Cospito e alcuni boss della mafia sul regime di carcere duro, ha riconosciuto che si trattava di atti sensibili, ma poi ha ribadito che comunque sul 41 bis lo Stato non intende fare alcun passo indietro. Cospito, ora detenuto appunto in regime di 41 bis nel carcere di opera, è in sciopero della fame da oltre 100 giorni e versa in gravi condizioni di salute. Ma per fare il punto su quanto è avvenuto oggi in aula durante le dichiarazioni di Nordio e per commentare le critiche rivolte ieri da Donzelli agli esponenti del Partito Democratico che hanno visitato in carcere cospito quando era detenuto a Sassari, parliamo con la capogruppo del PD a Montecitorio, Deborah Serracchiani, che è appena intervenuta in aula in risposta all'informativa del Ministro. Ecco, onorevole Serracchiani, le parole di Nordio sul caso Cospito e sulle accuse di ieri di Donzelli contro di voi, l'hanno convinta? Dunque, il Ministro Nordio ci ha in qualche modo spiegato il perché del 41 bis e le condizioni in particolare di salute del detenuto cospito. Quello su cui non si è pronunciato, pur avendo detto delle cose comunque importanti, è la questione che abbiamo sollevato ieri, cioè l'uso da parte dell'onorevole Donzelli di informazioni che ha evidentemente acquisito da documenti, come lui stesso ha detto, presso il Ministero della Giustizia che a nostro parere non sono nella disponibilità dei deputati o comunque di, se non di alcuni soggetti specifici che poi dirò, e in ogni caso sono informazioni sensibili. Cosa ci ha detto il Ministro? Intanto il Ministro, come ci ha ripetuto, ha immediatamente avviato già da ieri un'indagine interna al Ministero per capire che tipo di informazioni sono, come sono uscite dal Ministero, se sono uscite dal Ministero e ovviamente ha avuto cura di precisare che comunque tutte le informazioni che vengono acquisite in qualche modo da soggetti che sono al 41 bis sono di per sé stesse evidentemente informazioni sensibili. E questa è già, se vuole, una prima risposta. Ovviamente il Ministro si è però riservato di completare questa indagine interna e noi gli abbiamo anticipato nel mio intervento che gli chiediamo quindi di venire immediatamente a riferire in aula non appena avrà acquisito tutte le informazioni del caso. Lo abbiamo però in qualche modo aiutato a decidere e gli abbiamo spiegato che in realtà da quello che abbiamo appreso dalle dichiarazioni dell'On. Donzelli si tratterebbe appunto di probabilmente ascolti effettuati presso il carcere di Sassari fra detenuti al 41 bis e quindi dati sensibili, dati che peraltro ci risulta possono essere soltanto di due tipi. Uno sono le informazioni di questo tipo che vengono raccolte dal nucleo investigativo centrale e della Polizia Penitenziaria e che vengono inviate esclusivamente al capo del DAP e che sono nella disponibilità solo del capo del DAP eventualmente del capo di gabinetto del Ministro e del Ministro per il suo tramite. Altre eventuali informazioni possono essere acquisite nell'ambito di un'attività della Polizia Giudiziaria nel qual caso però si tratterebbe di informazioni, intercettazioni, ascolti o quel che sia di informazioni che non sarebbero nella disponibilità neppure del Ministro perché potrebbero essere nella disponibilità soltanto della magistratura che sta evidentemente procedendo. Pertanto in ogni caso queste informazioni non erano a nostro avviso e non potevano essere a nostro avviso nella disponibilità dell'On. Donzelli che ne ha fatto un uso anche politico e per questo abbiamo chiesto inutilmente purtroppo l'intervento anche della Presidente del Consiglio dei Ministri posto che evidentemente non può essere un fatto che lei non ha approvato o quantomeno tollerato visto la vicinanza a Donzelli che è ricordo il coordinatore nazionale di Fratelli d'Italia oltre che il Vice Presidente del Copasir. Ma ogni dubbio sulla natura di queste informazioni ce l'ha tolta non so quanto consapevolmente il sottosegretario del Mastro delle Vedove perché in un certo modo angelicamente ci ha detto che è stato lui ha confessato che è stato lui a dare le informazioni a Donzelli e lo ha fatto sulla base di relazioni. Ecco queste relazioni che ci dice essere le relazioni che il DAP ha inviato al Ministro della Giustizia sono proprio le relazioni che dicevo prima cioè quelle relazioni che non sono nella disponibilità se non del capo del DAP del capo di gabinetto del Ministro della Giustizia e del Ministro stesso. Infatti voi avete chiesto al Ministro in aula praticamente di rimuovere, di togliere le deleghe a Del Mastro perché non sarebbe più compatibile dopo questa cosa? Assolutamente sì è chiaro che Del Mastro delle Vedove ha delle deleghe delicatissime che sono appunto quelle del DAP cioè del Dipartimento Penitenziario e delle Carceri ed è altrettanto chiaro che se le cose sono andate come presumibilmente sembrerebbe essere sono andate è evidente che insomma c'è un tema di necessario intervento da parte del Ministro che deve revocare le deleghe al Sottosegretario del Masso delle Vedove anche perché quale funzionario del Ministero della Giustizia invierà al Ministro della Giustizia o al DAP informazioni riservate al Sottosegretario visto l'uso che poi ne viene fatto e vista anche la superficialità con cui le informazioni vengono date e sia chiaro che se anche queste informazioni che siano documenti come dice Donzelli che poi è stato smentito che siano relazioni come dice il Sottosegretario o che siano informazioni sono sempre riservate e non è che se vengono rese verbalmente finiscono di essere riservate per cui insomma credo che il Ministro abbia tutte le condizioni e tutte le informazioni per dover revocare immediatamente le deleghe al Sottosegretario del Masso delle Vedove anche per una questione che non vorrei venisse sottovalutata di sicurezza nazionale è stata messa in pericolo la sicurezza nazionale è stata indebolita la lotta alle mafie e al terrorismo eversivo ed in più è stato indebolito lo stesso strumento dell'articolo 41b che serve per non far comunicare all'esterno o fra loro i detenuti al 41b grazie all'onore della Donzelli hanno parlato apertamente a tutto il mondo quindi francamente se non ci sono le condizioni per mandarlo via Senta ma ieri insomma è stato anche chiesto questo giuridonore che il Presidente della Camera ha deciso di convocare e quindi di istituire ma cosa potrebbe fare adesso questo giuridonore e lei sa che tempi potrebbe avere per la sua istituzione? Il giuridonore è previsto dall'articolo 58 del regolamento della Camera dei Deputati è stato utilizzato pochissime volte il fatto che sia stato utilizzato in questo caso dimostra la gravità di quel che è stato fatto anche perché sono stati utilizzati i documenti riservati per colpire l'avversario politico e credo che nella Camera dei Deputati in quell'aula non sia mai avvenuto o comunque mi auguro non lo sia mai avvenuto questo giuridonore è presieduto da un Vicepresidente un Vicepresidente che non è nessuno ovviamente dei gruppi politici appartenente a nessuno dei gruppi politici coinvolti pertanto sarà presumibilmente un Vicepresidente di maggioranza e non di opposizione peraltro parteciperanno dei deputati indicati dal Presidente nel numero che riterrà il Presidente perché è abbastanza informale questo strumento noi auspichiamo però che vengano presi dei provvedimenti importanti nei confronti dell'Aulio Donzelli che venga censurato e che però questa censura si estenda anche al suo di ruolo perché non ci dimentichiamo che è il Vicepresidente del Copasir e dopo la superficialità con cui ha utilizzato informazioni riservate io non so quale funzionario dei servizi segreti sia più disponibile a mandare carte segrete al Copasir Beh, per esempio oggi c'è stata una riunione del Copasir alla quale appunto ha partecipato Donzelli quindi insomma alimentando ulteriormente le critiche da parte dell'opposizione Beh, credo che a qualcuna di questi incontri del Copasir anche recentemente abbia partecipato il Ministro Nordio quindi sarebbe anche interessante capire se in quelle sedi per esempio alcune di quelle informazioni siano venute fuori e se siano state quindi poi utilizzate impropriamente Lei ha detto in Aula che i rapporti tra maggioranza e opposizione a questo punto sono stati minati sul serio quindi pensa che, voglio dire, si possa recuperare in futuro o insomma fino a che non ci sarà un chiarimento serio su questa vicenda si resterà insomma con questo clima di tensione Ma a me ha colpito molto più cose Primo il mancato intervento della Presidente Meloni che trovo grave, inaudito e che mina veramente i rapporti anche all'interno di questo Parlamento che ha tutto l'interesse del Governo di cercare di mantenere la massima dell'unità Mi ha colpito però anche l'assenza di ogni presa di coscienza di intervento e di consapevolezza da parte dei gruppi di maggioranza in particolare l'intervento è stato molto deludente l'intervento di Fratelli d'Italia l'intervento della Lega e l'intervento di Forza Italia dove non solo non c'è stato nessun riferimento a quanto è accaduto nelle ore passate ma c'è stata una strenua difesa del 41bis che nessuno ha messo in dubbio e men che mai è stato messo in dubbio nel caso specifico di Alfredo Cospito però francamente insomma che non ci sia una presa di coscienza rispetto a quello che è accaduto ieri mi sembra grave, come ho detto ieri è accaduto a noi, domani può accadere a chiunque In conclusione del suo intervento ha citato una frase di Giacomo Matteotti perché ha fatto riferimento a Matteotti? Perché ovviamente i tempi sono cambiati però ho l'impressione che quella spinta che a volte ha una certa destra di piegare le istituzioni alle proprie ragioni di parte ogni tanto venga fuori e quelle parole sono parole che dovrebbero richiamare tutti noi Grazie 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 Grazie